Giovanni Capobianco, direttore dell'UC Geriatria della ASL Roma 2 mi sono scaricata, ho chiesto a chat CPT4 il suo curriculum per sapere ed è stato validato dal nostro Capobianco, non lo leggerò, preferisco che si presenti lui e toccheremo un tema molto importante perché il WHO ha stimato che entro il 2050 avremo 138 milioni di persone, oltre 138 milioni di persone ammalate di demenzia, per cui l'assistenza di queste persone graverà tantissimo sulla sostenibilità dei nostri bilanci e il 60% di queste malattie neurodegenerative sono proprio sostenute causate dall'Alzheimer. Prego. Innanzitutto, Giorgia, fammi ringraziare Felicia per questo invito. Io mi occupo, faccio il primario di Geriatria, quindi mi occupo di fragilità e il tema, l'avete visto, è quello dell'intelligenza artificiale applicato alla diagnosi della malattia di Alzheimer, come risorsa per la diagnosi della malattia di Alzheimer. E siccome devo stare dentro il contenuto tecnologico del mondo moderno, vi faccio vedere la prima diapositiva come tecnologo e vedete, la prossima, grazie, voglio aprire con le parole di un poeta. Mi sembrerà questa una irritualità. Questa rivista, La civiltà delle macchine, nel 1953, era un tentativo per mettere insieme, era stata fondata da Sinisgagli, uno scrittore che voleva mettere insieme fisici, chimici, ingegneri, esperti di tecnologia, insieme a poeti e scrittori e filosofi. E la grande intuizione di quella, di quella rivista, che poi ha avuto grandi, diciamo così, direttori, è stata quella di far aprire il, l'editoriale del primo numero, a parte di un poeta, di Ungaretti, che si interrogava così come farà l'uomo per non essere disumanizzato dalla macchina, per dominarla, per renderla moralmente arma di progresso. Siamo quindi circa 70 anni fa, vi dico, con questo. E nella prossima diapositiva vedete che c'è una domanda e c'è un punto di domanda, c'è una domanda se la medicina è pronta per la AI. Quindi, guardate, non è un punto esclamativo, è un punto interrogativo, perché bisogna dare una risposta a questo aspetto del mondo moderno, all'equilibrio tra quello che sono la, diciamo così, l'atteggiamento di purezza degli atti di cura, che qualche volta può rappresentare una forma di luddismo, una specie di fuga romantica dentro, diciamo, il mondo di una sanità che è scomparsa, e dall'altra invece una tecno-esclusività. Vi faccio vedere qualche dato che racconta, perché qua si parla di Data Talks, nella prossima diapositiva, guardate cosa succedeva al mio lavoro, prima nel 2019, io dirigo una dipartimento, diciamo così, un'area geriatrica che è fatta da un reparto di geriatria per acuti, dal hospital, da centri per i disturbi cognitivi, guardate in epoca prepandemica che cosa succedeva, ve la leggo per i non addetti ai lavori, avevamo pazienti con deterioramento cognitivo, con un certo grado di complessità clinica. Quello che vedete nel 2023 è come se fossimo entrati in un tunnel temporale e ne fossimo usciti e ci avessero cambiato i pazienti. Molto più gravi, molto più comorbidi, molto più complicati, ma con molta più difficoltà ad essere curati. E nella prossima diapositiva vi faccio vedere che cosa succedeva a quel tempo nel 2019, nell'epoca pre-covid, io poi ho avuto anche la straordinaria occasione di essere coordinatore dell'area covid per un anno, quindi ho fatto, ho cambiato la mia destinazione d'uso, l'84% delle persone che io osservavo le affidavo alle cure a domicilio. Se guardiamo nella diapositiva successiva, noi vediamo che invece era solo, è stato solo il 55%, cioè i malati erano molto più gravi e andavano poco a casa. Però siccome i dati raccontano, il problema è che non è che io vedo persone più gravi, ma diventano gravi dopo essere stati meno gravi? E quello che ci siamo chiesti è sul settore dei disturbi della memoria. Nella diapositiva successiva vi faccio vedere, nei disturbi di memoria che non sono la demenza, che sono anticipatorie, queste sigle SMCI, SMBI, significano disturbi soggettivi, quei disturbi piccoli della memoria anticipatori, che cosa si poteva fare? Leggere i dati ti raccontano qualcosa, naturalmente a patto che uno li sappia leggere, perché se io mi fossi appoggiato a quel dato lì, avrei detto, bene, mi devo occupare dei più gravi. No, io mi devo occupare dei più gravi e devo fare un tentativo perché non lo diventino. E rispetto a questa cosa, a questa domanda, che fare, cosa abbiamo fatto? Nella diapositiva successiva vi dico, vi faccio vedere, qui faccio una incursione, diciamo così, nel mondo un po' della mia tecnologia, questo è quello che succedeva nell'ASL Roma 2 per quanto riguarda la malattia di Alzheimer. Vedete una risonanza magnetica, questo che vedete è un ippocampo, una zona straordinariamente importante per la nostra memoria e se anche per i non addetti al lavori guardate che cosa succede in queste slice, questa struttura, questo ippocampo diventa sempre più piccolo, questa parte nera non è altro che liquor, che è liquido, quindi diventa più atrofico. Bene, fino a poco tempo fa io vedevo una persona con disturbo della memoria, facevo fare al neuroradiologo queste indagini, la leggevo, vedevo che facevo una valutazione occhiometrica e ne portavo, arrivava una diagnosi. Nella diapositiva successiva vi faccio vedere in che cosa l'intelligenza artificiale ha cambiato la storia della mia azienda. Attraverso un fondo noi abbiamo acquisito uno strumento che è un software per l'intelligenza artificiale che misura sempre lo stesso ippocampo, vedete questo è un cavalluccio marino, no? L'ippocampo e viene analizzato da un software che paragona la grandezza di quell'ippocampo con popolazioni di riferimento normali e dà una certa diviazione dalla normalità e quel puntino rosso che sta fuori della scala del verde ci dice che quel, ve la faccio un po' romanzata, ci dice che quell'ippocampo è ridotto. Bene, allora ho finito la mia relazione, posso anche andarmene perché vi ho illustrato uno strumento dell'intelligenza artificiale che ci fa fare diagnosi e possiamo andare via. Nella diapositiva successiva vi faccio vedere cosa invece è successo perché io poggio, faccio riposare l'intelligenza artificiale sulle gambe e sulle braccia di persone che tutti i giorni si mettono la casacca o il camice bianco e qui vedete quello che è il risultato dei test neuropsicologici che una ragazza capace, bravissima, che è la dottoressa Bigozzi, fa agli stessi pazienti che vengono sottoposti al software, alla risonanza e al software di intelligenza artificiale. Quelli sono una batteria di test complicata che va interpretata e nella diapositiva successiva vi faccio vedere che cosa è successo per quanto riguarda la concordanza perché se avessimo utilizzato solamente lo strumento di intelligenza artificiale avremmo avuto un dato numerico mentre qui vedete la corrispondenza positiva tra una testistica fatta da un uomo, in questo caso da una donna, e il software di intelligenza artificiale, una concordanza del 67%, cioè io alzo il livello di intercetto delle persone con disturbo della memoria per fare diagnosi. Ma siccome sempre data talks, i dati raccontano, i dati raccontano attraverso le persone, attraverso gli uomini anche per la corrispondenza parziale o per la corrispondenza negativa. Non entro nel diciamo nel dettaglio, ma attraverso questa sintesi tra uomo e macchina abbiamo dato un diagnosi più precoce e abbiamo spiegato anche le deviazioni da quella diagnosi. Nella diapositiva successiva vi vi cito quello che è stato il nostro master, cioè il fatto che il processo diagnostico per le persone con demenza si basa su una sintesi tra l'EBM, tra l'imaging e una storia narrativa delle persone. Guardate, io sono abbastanza sicuro che la mia spalla, un po' in disordine, fra 15-20 anni potrà essere operata da un robot, ma senza, non il robot, il da Vinci con l'uomo dietro, io penso che potrebbe essere operata o il ginocchio senza proprio l'uomo. Uno va lì e trova una macchina che ti pulisce il ginocchio o la spalla. Nel settore della fragilità, cioè dove le cure sono più complesse, le nuance degli atti di cura sono così delicate ma nello stesso tempo decisive da non poter fare a meno dell'impatto dell'uomo e dell'interpretazione dell'uomo. E nella diapositiva successiva vi dico quello che succede, che dietro ogni dato biologico della medicina digitale sono sempre più convinto, e quella è l'esperienza che abbiamo fatto, che ci sia la medicina che vive nel mondo reale. Questa sintesi è quello che ci ha portato nella diapositiva successiva, lo vediamo, fatemi fare un piccolo endorsement al mio direttore generale, questo progetto che vi ho fatto vedere con l'utilizzo di questa tecnologia ci ha consentito di prendere il primo premio al forum nazionale della della salute. Non lo faccio per farmi far vedere i miei muscoli, lì mi trovate con il primario della radiologia dell'ospedale Sant'Eugenio e col mio direttore generale il dottor Casati a una premiazione della presidenza del consiglio regionale del Lazio, ma per dire che sono convinto che quel premio il dottor Petralia di stamattina ce l'ha dato proprio per questa sintesi ed è proprio per questo nella diapositiva successiva che vi dico che quello che la che la tecnologia, quello che la intelligenza artificiale fa è questo scalable privilege, questa democratizzazione delle cure. Per uno che si occupa di fragilità quello che è più importante è raggiungere il più alto numero possibile di persone. Questo è l'unico senso che la tecnologia per me debba avere, come dice la Samantha Anderson in questo articolo di una delle riviste più prestigiose in medicina che il JAMA nel gennaio del 2024. Voglio concludere prima di lasciarmi ehm dire qualcosa da Giorgia dicendo che siccome eh il tema era l'intelligenza artificiale ehm nella diagnosi di malattie di Alzheimer ho voluto e mi dovete scontare eh diciamo così iniziare ritualmente con le frasi di un poeta per per interrogarmi quindi voglio ritornare alla tecnologia e per questo concludo con eh la diapositiva successiva con un filosofo perché è giusto concludere con un filosofo. Albert Camus diceva ehm che il mondo nel mondo c'è la bellezza e ci sono gli oppressi quanto sia terribilmente per quanto sia terribilmente difficile io vorrei essere fedele ad entrambi per me la bellezza sono è il progresso scientifico un elemento inilludibile dentro il quale bisogna stare con la capacità di governo come hanno detto persone molto più autorevoli di me stamattina ma gli oppressi per me sono le persone fragili alle quali bisogna dare risposta alle crisi di ogni giorno a loro e alle famiglie che li accolgono. Questo è il mandato e la sfida che io ho per il futuro. Grazie. 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 Allora era il duemiladodici e compravo la rivista Harvard Business Review e si parlava proprio di questa nuova modalità dell'uomo e la macchina che dovevano iniziare a collaborare eh strutturare queste metodo di comportamento mai delegare la decisione finale alle macchine. Questo è eh hai chiarito perfettamente il perché e molte volte invece si delega alla macchina la decisione soprattutto nella parte gestionale organizzativa e si perde tantissimo. Ho sentito qualcuno che dice no ci non ci sono i medici quindi li sostituiamo con l'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale deve fare il lavoro brutto, il data entry, catturare i dati dall'ambiente come sa fare. Non chiedere ai medici di inserire dati tutti i giorni, non è il loro lavoro. Fare questo passaggio, utilizzare le macchine per liberare il medico perché io sono vent'anni che lavoro in management di sanità e quindi conosco benissimo. Ah no, dobbiamo fare la gestione organizzativa sulle nuove sole operatorie e allora il medico deve stare lì scrivere e mettere il dato. No, c'è un'altra via, c'è un altro modo. Magari il medico deve avere il report, deve avere la parte finale, analizzarlo, il manager deve vedere come fa. Fare molto felice di quello che hai detto e il fatto di che dobbiamo avere l'uomo, la macchina e tanti professionisti. So che hai collaborato anche con un tuo collega che lavora nella diagnostica delle immagini e abbiamo visto i risultati di questa grande collaborazione. Abbiamo un nuovo passeggero a bordo e dobbiamo dargli le giuste istruzioni. Questo è un motivo d'orgoglio per me. Mi scuso per l'irritualità della presentazione che può far intendere una lontana nostalgia per, come dicevo prima, per una purezza degli atti di cura. Guardate che quanto più i livelli di fragilità in ambito sanitario sono alti, tanto maggiori abbiamo bisogno di pensieri diversi. Di pensieri che non sono solo biologici. Cioè, voi sapete oggi che nella diagnosi di malattia di Alzheimer c'è un'altra frontiera. Io vi ho fatto vedere un software applicato ad una risonanza magnetica per immagini cerebrali, ma avete sentito parlare dei marcatori biologici che vengono fatti sull'Iguorcefalo orachidiano o sul plasma. Ma guardate che nell'ambito della complessità, in particolare geriatrica, sì, mi piacerebbe avere un silver bullet, come si dice, no? Un proiettile magico, una provetta e esce fuori 300 di glicemia e uno è diabetico. No, è così. No, per quello che è l'argomento di cui mi occupo tutti i giorni, la fragilità, non c'è questo traffico di provette a, diciamo così, a dare una risposta. Quindi è proprio per questo che non posso essere trascinato come medico della fragilità dentro la polarizzazione da una parte i tecnocrati, i tecno-esclusivi e dall'altra i luddisti che vanno in giro. Ho mandato la mia foto quando mi ha chiesto Giorgia la mia foto, l'ho mandata non casualmente con la mia tuta di lavoro, diciamo, all'ospedale col fonendoscopio al collo, perché quello ha ancora un valore nell'ambito della fragilità. Grazie. Grazie a te. È molto riconoscibile anche dai pazienti. Autorevolezza in medicina che dà fiducia alla risposta data da una persona che ti guarda negli occhi ha un grande valore. Ho lavorato in un RSA e il contatto umano che si sviluppa con queste persone è veramente incredibile e riuscire a ritagliare questi spazi importanti di colloquio è veramente significativo. La fragilità quando ti senti fragile tutti ci finiamo e quindi è un valore che prima o poi dobbiamo condividere e persone che valorizzano e anche una società che valorizza il human data, quindi sviluppare il potenziale, liberare il medico perché sia più umano verso la persona. Facciamo fare le cose poco interessanti alle macchie. Grazie.